Durante un ferragosto a Vercelli, Grillo incontra un alieno che per assaggiare lo Iomo perde l'astronave. Sarà l'inizio di una grande amicizia? Non ce la faccio più con te, non ce la faccio più. 140 vasetti ne mangi tutti i giorni. Mi stai riducendo sull'astro, assaggia almeno due spaghetti. Guarda, o vai a lavorare o ti faccio perdere il vicio, ti metto la graffetta qui, eh. Ti metto la graffetta. Solo come si fa? Piace canta paia d'orecchi.